Benvenuti in Now. Venite con me. Qui è dove selezioniamo i film da non perdere per vederli in streaming. E qui scegliamo per voi gli show e le serie tv di cui tutti parlano. E poi abbiamo gli sport che ci appassionano. Questa è Now. È intrattenimento allo stato puro. Ho detto bene? Film, serie tv, show e sport in streaming. Entra in Now.